La notte scorsa, poco prima delle due, un furgone è uscito di strada finendo al centro di una rotonda a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Il mezzo ha terminato la corsa contro la statua del leone che si trova al centro della rotatoria e l'ha distrutto. Il sinistro si è verificato all'incrocio tra Via L'Europa e Via Domenico Veronese. Ferito l'autista, i pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito all'ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi.